Come distinguere i cibi di qualità sani e convenienti? Quali sono gli alimenti che curano? Come evitare le trappole del marketing? Le risposte a queste e a molte altre domande rappresentano il contenuto di Alla scoperta del cibo sai cosa mangi? scritto dal volto di Noi TV Fabrizio Diolaiuti. Nel volume presentato a Palazzo Mediceo, l'autore ci accompagna in un viaggio affascinante e sorprendente che si snoda dalle carni ai crostacei, dai supercibi ai germogli, dai cereali alla frutta, dalle alghe fino agli insetti. Sicuramente un libro che servirà a tantissime persone per scoprire il cibo, per capire cosa mangiare, per evitare le trappole che possono creare le industrie alimentari e qualche cattivo produttore. Veramente un bellissimo lavoro, come dice Beppe Pigazzi nella prefazione andrebbe letto nelle scuole. Diolaiuti, ospite di Giulio del Fiorentino a Buongiorno con Noi, ha svelato moltissime curiosità, informazioni dritte e qualche notizia inquietante. Una lettura che cambierà per sempre il modo di vedere il cibo e di gustarlo.